Il sindaco di Quarnasopra Il sindaco di Quaretta lancia l'allarme, inaccettabile declassamento del 118 di Omenia. Da oggi fino al 17 giugno stoppa il cantiere lungo il versante montano di Meisa Re, lungo la statale della Valle Vigezzo. Nei weekend d'estate, a partire da oggi, torna la chiusura estiva al traffico di Viale delle Magnoli a Pallanza. Carlo Tacchini, campione di canottaggio, riparte con la carriera dopo la delusione per la mancata qualificazione olimpica. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. In apertura di giornale, lo avete sentito dai titoli, c'è la cronaca con il grave incidente stradale successo nella mattinata di oggi in via Binda a Stresa. Coinvolti una moto e una peccara, ha avuto la peggio perché ha riportato davvero ferite molto gravi un ragazzo di 18 anni. Sono ore di apprensione per il 18enne coinvolto questa mattina in un grave incidente in via per Binda, la strada che da Stresa sale verso Carpugnino. All'altezza del collegio Rosmini, sede succursale dell'Istituto Alberghiero Maggia, il ragazzo che vive a Baveno in sella alla sua moto si è scontrato frontalmente con un ape car. Nell'impatto ha riportato ferite molto gravi. Subito sul posto è giunta l'ambulanza del 118 con la polizia stradale. Il giovane è stato portato fino al campo sportivo di Stresa dove è stato caricato sull'elicottero che lo ha immediatamente trasferito all'ospedale maggiore di Novara. Era in codice rosso, stava andando a scuola quando è avvenuto l'incidente. La dinamica è al vaglio degli agenti della polstrada. C'è grande apprezzione per il 18enne. Anche il sindaco di Baveno, Alessandro Monti, ha pubblicato un messaggio di sostegno e vicinanza sui social. Cambiamo argomento. È ufficiale. Dal lunedì il Piemonte passa in zona bianca. La notizia è stata confermata nel pomeriggio dal ministro Speranza, il governatore del Piemonte Alberto Ciri. Una notizia che peraltro era nell'aria valutati i dati della nostra regione nelle ultime settimane. Questo vuol dire, ha detto Cirio, che non ci sarà più il coprifuoco e avremo maggiore libertà. Ma non vuol dire che non dobbiamo più stare attenti per vivere questa libertà e poterne godere appieno. Abbiamo il dovere di continuare ad essere prudenti. Indossiamo dunque la mascherina, evitiamo gli assembramenti e viviamo questo momento con grande senso di responsabilità. l'appello che arriva dal presidente della regione. E per il secondo giorno consecutivo il Piemonte registra un dato davvero incoraggiante. Non ci sono morti sulla fronte del coronavirus. Sono 126 nuovi casi di persone positive al covid in Piemonte. Prosegue il calo dei ricoveri nelle terapie intensive. Meno 2 vuol dire 27 ricoverate, 351 negli altri reparti con una diminuzione di 16 pazienti. Mentre le persone in isolamento domiciliare ora sono 2.478. I guariti sono stati 266, più del doppio dei nuovi casi. Dall'inizio della pandemia dunque il Piemonte ha registrato 366.025 positivi. Ci sono stati da inizio pandemia anche 11.670 decessi, 4 in più rispetto a ieri, ma nessuno registrato oggi a livello locale. I nuovi positivi oggi sono stati 7 nella Novarese, tranne il VCO. I guariti in provincia di Novara sono stati 14-12 nel Verbano Cusiossola. E continuiamo a parlare di sanità, ma lo facciamo con un allarme che arriva dall'accusio. Sentiamo. Mancano medici, ci sono le ferie da fare giuste e legittime. Il punto di primo intervento dell'ospedale di Omenia non è ancora aperto. Insomma, il 118 d'Omenia, a quanto sembra, a quanto pare, è declassato. Almeno questo è quello che si dice. Ma esattamente qual è la situazione, Quaretta? Un po' a sorpresa in questi giorni abbiamo appreso che nell'ambito piemontese, non so se di quadrante, ma credo piemontese, ci sono due servizi 118 che verranno declassati, sia pur per il periodo estivo. E sono Gattinara e, guarda caso, Omenia, dalle 8 alle 20. Il che significa che non sarà più presente un'ambulanza medicalizzata qui ad Omenia, pronta ad intervenire. E tutta l'emergenza potrebbe essere gestita, ok, dalla rete del 118 generale, ma grazie all'ausilio di una auto medica a disposizione a Gravelonatoce, che ovviamente può intervenire, può incominciare a intervenire per contenere l'emergenza, per poi chiedere il supporto di un'ambulanza medicalizzata che arriverà da altre zone. Allora, è una sorpresa, non dico un fulmine al ciel sereno, però è una conferma che è stata data dall'assessore regionale alla sanità Icardi l'altro giorno, nell'ambito del Consiglio regionale, che sinceramente ci spieghiamo poco. Ieri pomeriggio ho avuto modo di fare due chiacchiere per approfondire il tutto con la direzione generale della SLVCO, la quale mi ha confermato intanto di non essere stata coinvolta in questa scelta di declassare il servizio 118 per Omenia, quindi conseguentemente per il Cusio, ma di essere stata rassicurata che tutta l'emergenza verrà comunque gestita, mi viene da dire ci mancherebbe altro. In ogni caso ci sono delle perplessità che, a mio avviso, devono emergere, perché non credo che Neomenia, né tantomeno il Cusio, con tutta la sua costellazione di piccole e medie comunità, anche non facilmente raggiungibili, possano rischiare, anche solo per l'estate, di non avere qua sul posto un'ambulanza medicalizzata. Per quanto riguarda il punto di primo intervento, proprio ieri mi è stato detto che, nonostante alcune difficoltà e perplessità da parte del COC in merito alla riapertura del punto di primo intervento, la SL avrebbe intenzione di interagire con il COC per consentire che questo possa riaprire all'inizio di luglio. Questo dunque è il pensiero di Quaretta, ma ieri c'è stato anche un altro incontro a livello sanitario, quello del Presidente, della rappresentanza dei sindaci, con la direttrice Serpieri. Sentiamo che cosa si sono detti. Ieri c'è stato un incontro con la dottoressa Serpieri, che è stata recentemente confermata alla guida dell'ASL per il prossimo triennio, però un incontro nel quale lei ha sottoposto alcuni aspetti importanti. Sì, allora ho incontrato la dottoressa alla luce del fatto che è stata confermata per i prossimi tre anni alla direzione della nostra ASL. Oltre a esprimerle le nostre congratulazioni e il nostro augurio per questo importante incarico che dovrà portare avanti, ho cercato di condividere con lei alcuni punti critici che sono sempre di grande attualità. Il primo è quello ovviamente dello studio Ires, per il quale mi ha confermato anche così come mi aveva scritto l'assessore Icardi in corso di valutazione da parte del gruppo di lavoro composto da Ires, assessorato e direzione ASL stessa, sul quale quindi mi daranno le risposte rispetto ai quesiti che ho posto. Ma la questione che in questo periodo spesso ricorre, soprattutto da parte dei comitati che si sono costituiti, è la preoccupazione legata al rispetto della direttiva del DIRMEI che imporrebbe la ripresa delle attività sanitarie nei diversi presidi così come avveniva prima dell'emergenza pandemia che ha imposto una trasformazione. Ovviamente la dottoressa mi conferma che c'è questa intenzione, cioè tutti e tre i presidi riprenderanno le loro attività. Ovviamente questo percorso non è facilissimo perché ci sono delle problematiche di personale, delle problematiche logistiche e organizzative, ma non c'è nessuna direttiva come invece purtroppo qualcuno tende a far credere che imponga al 118 di portare i malati in un DEA piuttosto che nell'altro, che non voglia far riaprire certi reparti. Alle 4 di notte in giro con il trattore, multa da 900 euro per una 44enne di domodossola sorpreso dai carabinieri in mercoledì dopo un battibecco per futili motivi con il vicino di casa. L'uomo ha deciso di rilassarsi dapprima bevendoci su, poi ha preso il trattore della fratello e ha iniziato a girare per i terreni vicino casa, uscendo dalla sua proprietà, sfondando il cancello. Poi ha raggiunto la vicina pista ciclabile che collega Domodossola a Villa Dossola con il mezzo abbattuto segnaletica alle sbarre di limitazione e si è spostato poi successivamente dalla pista ciclabile a Via Torino. Il rumore generato e la guida a dir poco sportiva hanno richiamato l'attenzione dei residenti che hanno chiamato le forze dell'ordine. Sulle sue tracce si sono messi i carabinieri, ma anche la polizia e la guardia di finanza. Il trattore è stato rintracciato e fermato da un equipaggio del radiomobile dei carabinieri di Domodossola mentre il suo conducente riposava a bordo in sosta nella periferia sud, in regione Noserea, Domodossola. È stato sanzionato per non aver rispettato il coprefuoco, per guida in stato di ebrezza e per aver guidato il trattore privo di patente, non l'aveva mai conseguita a sue spese, dovrà risarcire per i danni fatti durante il percorso. Ed ora invece andiamo in Valle Vigezzo per parlare di viabilità, perché questo tema sta causando davvero problemi seri alla valle. Per sette giorni stop alle fasce orarie lungo la statale della Valle Vigezzo, lo ha annunciato Anas ricordando che il provvedimento avrà carattere temporaneo fino al 17 giugno. Una buona notizia, anche se temporanea per i frontalieri, soprattutto per chi è occupato nelle fabbriche e negli ospedali dell'Ocarnese, costretti a viaggiare con orari diversi da quelli canonici, mattino e sera. Anas ha motivato con necessità di organizzazione dei lavori la decisione di lasciare libero il transito. Il cantiere è quello relativo alla messa in sicurezza del versante nel tratto compreso fra Maes di Re e Ponte Ribellasca. Opere per un costo complessivo di 800 mila euro che prevedono la posa, fra l'altro, di nuove reti. I lavori sono solo una parte del più importante progetto di ammodernamento della statale Vigezzina, finanziato da Anas con 10 milioni di euro e invece in fase di progettazione il secondo lotto da circa 9 milioni di euro. Intanto la società che si occupa della manutenzione della strada statale ha annunciato in queste ore che lunedì partirà un nuovo cantiere. Il terzo andrà ad aggiungersi a quello già in atto da fine aprile al viadotto di Gagnone e che tanti problemi sta causando alla viabilità valligiana. Questa volta si lavorerà fra Masera e Paiesco per un tratto di circa 600 metri, all'altezza del chilometro 6 più 300. Il programma dei lavori prevede la bonifica del versante montano con manutenzione alle reti e posa di Paramassi. Attenzione dunque, da lunedì in questo tratto scatterà un senso unico alternato. E a livello viario ci sono novità a partire da questa sera anche per Viale delle Magnoli a Pallanza. Riparte da questa sera la chiusura estiva al traffico, come già sperimentato nei due anni precedenti, di Viale delle Magnoli a Verbagna Pallanza. La chiusura alla circolazione sarà dal venerdì alla domenica compresa dalle 19 alle 24 e per la sola domenica dalle 12 alle 14. Viene fatta salva la possibilità per i veicoli dei residenti, per gli ospiti degli alberghi, per i veicoli adibiti a carico-scarico e per i veicoli delle forze di polizia locali e dello Stato e i mezzi di soccorso di poter circolare a passo Duomo. Intanto a Pallanza è stata sistemata la scritta sulla fontana galleggiante di fronte al municipio, danneggiata la scorsa settimana nel corso del raid di atti vandalici compiuti di notte da un turista svizzero, al quale ora il Comune chiede il risarcimento. Erano stati imbrattati con bombolette spray, anche le panchine del Lungolago, i muri di ristoranti, hotel, abitazioni private. E ora torniamo ad occuparci di un tema di cui si è molto discusso negli anni passati, Malpensa perché i territori dell'Ovesticino tornano a parlare di quello che è il progetto legato allo sviluppo dello scala. Il coordinamento degli enti locali interessati dalle rotte dell'aeroporto di Malpensa si è riunito in questi giorni sull'argomento. La vicepresidente della provincia di Novara, Michela Leoni, afferma che siamo un territorio unito negli intenti e fermamente determinato nel riprenderci tutti gli spazi per esprimere le nostre posizioni e portare avanti le istanze a tutela dell'ambiente e degli interessi dei comuni del Novarese. Poi ha continuato. Abbiamo concordato sul fatto che gli sviluppi e le conseguenti ricadute positive prospettati nel masterplan di Malpensa 2035 siano concentrati sul territorio lombardo. Abbiamo ribadito come, invece, gli impanti ambientali siano distribuiti su un territorio ben più vasto che comprende i comuni della prima fascia del Novarese. I comitati hanno posto l'attenzione sulle difficoltà di poter accedere in modo trasparente alle informazioni sulle rutte seguite in fase di atterraggio e decollo. A queste situazioni si aggiunge l'impossibilità di poter partecipare alla Commissione Aeroportuale a fronte di un vetto posto da ENAC, nonostante i ministeri della transizione ecologica e delle infrastrutture e trasporti si siano più volte espressi a favore della partecipazione. Sono intenzionati a riprendere il ruolo perso nella Commissione. La segreteria ha riproposto la necessità di aggiornare il gruppo di lavoro dell'osservatorio tecnico degli effetti generati dall'aeroporto. Gli uffici della provincia, annuncia Leoni, si relazioneranno con ARPA Piemonte per definire le azioni dell'osservatorio alla luce del Master Plan Malpensa 2035 e della procedura di valutazione integrata ambientale in corso. È stata espressa inoltre piena sintonia con l'ente gestione Parco del Ticino e Lago Maggiore a proposito della necessità di far effettuare monitoraggi sugli effetti dell'aeroporto sul territorio del Parco Piemontese. A questo proposito, conclude la Vicepresidente, la segreteria ha confermato che verrà dato supporto da parte del coordinamento degli enti locali con una richiesta di inclusione del Parco Piemontese nel protocollo siglato negli scorsi mesi tra SEA e il Parco Lombardo. Rimaniamo in provincia di Novara, esattamente a Novara, perché qui questa mattina è stato presentato il primo bilancio di sostenibilità della società Acquanovara VCO. Acquanovara VCO punta a divenire protagonista nel settore idrico attraverso lo sviluppo di una cultura della sostenibilità diffusa in modo pervasivo tra i suoi dipendenti, ma anche al di fuori del contesto aziendale, attraverso un'azione di sensibilizzazione che si deve stendere ai fornitori e ai clienti. Misurarsi per migliorarsi è il motto del presidente di Acquanovara VCO, Emanuele Terzoli. Questa è la logica che ha portato la nostra società negli ultimi tre anni a redigere volontariamente una dichiarazione non finanziaria, fortemente incentrata sui risultati raggiunti in termini di sostenibilità aziendale. Il processo di rendicontazione avviato ha rappresentato la base di partenza del report di sostenibilità, che sarà uno strumento fondamentale per il percorso che, insieme al Consiglio d'amministrazione, abbiamo deciso di intraprendere. Questo però è un'attenzione che va ancora più in là e ci spinge ad avere una serie di approcci sul mercato di un certo tipo, uno su tutti. La gara che stiamo per condurre in porto dell'acquisto dell'energia elettrica, che per noi cumano circa 9 milioni di euro all'anno, sarà solo proveniente da fonti rinnovabili. Per la D, Daniele Barbone, essere sostenibili sotto il profilo economico, sociale e ambientale è un dovere. Oggi, utilizzando i criteri stabiliti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che include 17 obiettivi di sostenibilità, siamo in grado di mappare tutte le dimensioni della sostenibilità, sia economica, sociale ed ambientale. Questo ci permette di avere una prima fotografia della nostra realtà, che impatta molto significativamente nelle relazioni col territorio e poter conseguentemente iniziare un dialogo con gli stakeholder comuni, associazioni di categoria, cittadini, nuove generazioni, in modo da raccogliere riflessioni che partano da una base ragionata di dati e costruiscono poi delle pianificazioni di attività nel tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi, durante la serata, saranno anche annunciate le borse di studio in memoria della giovanissima Marta Giroldi. Ed ora veniamo al palinsesto di Vici Azzurra TV, che come sempre, ogni venerdì in prima serata propone l'appuntamento con il nostro direttore, il Sassonello Stagno. Appuntamento alle 21, con repliche sabato alle 17 e domenica alle 14. Ospite della puntata di questa settimana del Sassonello Stagno sarà Stefano Noro, che è il presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Verbano Cusiossola. Il dottor Noro è già che con noi per la puntata di questa settimana. Parleremo dei commercialisti in un momento un po' particolare, intanto perché è il momento in cui bisogna pagare le tasse, fare le dichiarazioni dei redditi, quindi il commercialista è un po' al centro dell'attenzione. In più, il commercialista ha avuto un ruolo importante anche in questa situazione della pandemia, perché è stato forse un consulente indispensabile e prezioso per tutte quelle attività economiche in difficoltà e che comunque devono ricorrere anche alle agevolazioni previste dai vari decreti di storie che sono stati fatti in questi mesi. Con noi poi allarheremo anche un po' il discorso e vedremo un po' qual è il ruolo, quale può essere il ruolo del commercialista e anche sentiremo dai commercialisti qual è la situazione economica della nostra comunità. Arrivederci, a fra poco. Gli altri promotori del progetto Ciac Piemonte che spettacolo nei giorni scorsi hanno fatto visita alla set di Villa Giulia dove si sta girando un corto. Sentiamo di cosa si tratta. Un'operazione di turismo culturale e come si manifesta in sostanza? In sostanza si manifesta in questo modo, nel senso che si realizza una produzione performativa, quindi uno spettacolo di danza ripreso da una compagnia cinematografica all'interno però di un bene faro, di un bene patrimonio della regione Piemonte quale è Villa Giulia. In questo modo quindi si fa una sorta di promozione ad una location, ad un palazzo splendido quale la Villa, ma non attraverso come dire un messaggio promozionale diretto, ma attraverso un modo diverso di presentare la Villa, cioè attraverso come scenografia sostanzialmente di un lavoro scenico. Come verrà distribuito ciò che si produce in questi giorni? Avrà differenti modi perché le riprese daranno vita a differenti formati, cioè daranno vita a dei formati molto brevi, di un minuto, che quindi potranno essere promossi sul web, potranno essere promossi sulle metropolitane, ma allo stesso modo darà anche vita viceversa ad un cortometraggio di una durata superiore, quindi si arriverà anche 10 minuti o al quarto d'ora, dove ovviamente la narrazione sarà più ampia e questo cortometraggio sarà presentato al prossimo Torino Film Festival, quindi in una sala cinematografica alla fine di novembre. Bellezza del Piemonte e cultura, insomma, a braccetto per promuovere la nostra regione? Assolutamente sì, ma non soltanto per quello che può essere un conoscere e un riconoscere alcuni spazi da parte di chi li abita, ma anche grazie soprattutto alla partnership con Visit Piemonte, questi prodotti verranno visti e promossi anche all'estero per invogliare e dirigere sul Piemonte anche il turismo culturale che dopo l'emergenza sanitaria auspichiamo ritornare nei nostri territori. È un'ulteriore occasione di promozione prestigiosa del nostro territorio? Assolutamente sì, Verbania è sempre più protagonista di questa ripartenza che è del paese, ma che è anche e soprattutto del comparto turismo e cultura e quindi la città di Verbania sta dando tutto il sostegno possibile a questo progetto. Due parole sulla produzione scelta per questo progetto. Il concept è forte perché appunto ci siamo interrogati su che cosa può essere Villa Giulia oltre che un bellissimo giardino, una bellissima vista sul lago e stiamo cercando di mettere un po' in crisi questa visione placida per tirare invece fuori il suo lato selvaggio anche dovuto al suo passato di discoteca e casa privata. Ora siamo allo sport, pagina sportiva dedicata al canottaggio e a Carlo Tacchini. Allora Carlo, giornate intense possiamo dire per te, la non qualificazione olimpica, poi tanti altri bei momenti, come sta andando? Beh, partiamo dal peggio. Non qualificazione olimpica, c'erano pochissimi posti disponibili, la forma c'era, un po' le condizioni avverse non mi hanno aiutato, però fa parte del gioco, ci riproveremo, ne abbiamo già parlato e si va avanti. La stagione è continuata con le due prove di Coppa del Mondo, tre medaglie e sono tornato ieri praticamente dai campionati europei. Un ottimo quarto posto sul C1-1000, che è l'unica distanza olimpica rimasta e un terzo posto sul C1-5000, una bella lotta. Se vuoi il bello, ma se vogliamo anche il brutto, perché poi non ci si può fermare mai, non si ha nemmeno magari il tempo di inglobare i successi e le delusioni, è che uno sportivo come te deve subito ripartire. Beh, per forza, perché fortunatamente il calendario a gare un po' ci aiuta, perché avere così tante gare di fila aiuta a smaltire anche la delusione e ti mette sempre in gioco. È uno sport troppo faticoso e troppo complicato da preparare per buttarsi giù alla prima sconfitta. Senti, invece è un momento bello qui alla Polisportiva Verbano, foto con i ragazzi, con i mezzi della polizia, tu che sei un agente delle fiamme oro. Queste sono le cose belle del mestiere, se vuoi. Sono molto belle. È per partecipare al concorso per il calendario 2022 della Polizia di Stato, quindi speriamo innanzitutto di vincere e di poter essere sul calendario. E poi è bello, è bello perché è bello stare a Suna, è bello stare sul Lago Maggiore, è bello condividere con la Polisportiva anche queste piccole cose. Ma non si molla mai, in poche parole? No, assolutamente. Vietato. Allora, che dire se non un in bocca al lupo a Carlo Tacchini, il campione di casa naturalmente. Io mi fermo qui, però vi ricordo che gli aggiornamenti potete trovarli sul nostro sito, all'indirizzo vcaazzurratv.it, poi ci sono le pagine social. Grazie, naturalmente. Vi aspetto alle prossime edizioni. Buon proseguimento. Grazie.